Fabriano far tornare Anna Tiberi a Fabriano quanto prima, e l'obiettivo dei familiari della ragazza morta sabato in Cina dopo un volo dal terzo piano, dell'hotel a Ninguo dove si trovava per lavoro, tutta la città tende di poter salutare ufficialmente la mediatrice linguistica di 25 anni che, parlava correttamente inglese e cinese. Nel continente asiatico partito l'iter burocratico che permetter, non prima della settimana prossima, di far tornare la salma in Italia, sare il fratello maggiore Tommaso, con molta probabilità, a volare verso Vuxi, in Cina, nei prossimi giorni, per il triste compito del riconoscimento della salma e per portare a casa anche gli ultimi affetti della sorella costuditi in camera. Ancora in forse la partenza anche di Giacomo che sta in stretto contatto con il consolato. I familiari hanno escluso dal primo momento l'ipotessi del suicidio per Anna sempre stata una ragazza solare, piena di vita, con tanti progetti per il futuro e stanno cercando di avere maggiori dettagli su ci che è successo. Sabato notte nell'hotel, secondo le autorit locali si tratta di tragica fatalite e ci escluderebbe il coinvolgimento di altre persone, dalle registrazioni delle telecamere di sicurezza dell'hotel. Inoltre, non sono stati immortalati particolari che potrebbero far cadere questa certezza della fatalite. Altro su MSN. Il giallo dell'italiana morta in Cina. Mediaset.